La commemorazione dei difunti a Torre del Greco si conferma come sempre un appuntamento molto sentito. Anche quest'anno infatti sono numerosi i cittadini che si recano al cimitero per commemorare i propri defunti. Per molti le condizioni sono ottimali in termini di ordine e pulizia. Secondo altri invece si interviene solo in occasione del ponte del primo novembre e non in maniera costante durante tutto l'anno. Non mancano poi le lamentele sul funzionamento ridotto delle fontanine. Le abbiamo ascoltate ai microfoni di TV City. Come sono le condizioni del cimitero di Torre del Greco? Dal punto di vista della pulizia pare che qualche cosa adesso in questi giorni e come tutti gli altri anni in questi periodi praticamente si pulisce il cimitero, c'è poco di più attenzione, ho visto gli operai che pulivano i giardinetti, i fiori, però alla fine rimane qua. Nei giorni uno, due, massimo tre e poi chi si è visto si è visto. Quindi la pulizia non è costante? No, 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 al cimitero per carità. Ma questo non è soltanto al cimitero. Al cimitero la pulizia la fanno i parenti dei defunti. Si portano la scopa, si portano il secchio per innaffiare, per fare quelle poche cose che guardano come se fossero a casa loro, insomma, quelle che ci tengono all'attenzione dei defunti. Poi una cosa che ho notato è una vergogna, insomma, su un cimitero così vasto ci sono siano due fontanine che funzionano minimamente, proprio poco poco, per cui secondo me almeno in questi giorni dovrebbe essere più attenzione. Secondo lei questa poca attenzione, questi interventi solo a singhiozzo dipendono da una mancanza di operai, da una mancanza di personale. Certamente dipende da una mancanza del sindaco in primis, perché il sindaco se è una persona che ci tiene alla sua città e che ci tiene a queste cose, lui potrebbe farsi sentire. La presenza del sindaco sul territorio si fa sentire quando si vede che la città è pulita e attenzionata. Lei per la commemorazione dei defunti viene sempre al cimitero? Sì, sempre. Come l'ha trovato quest'anno? Bene, diciamo, non male. Pulito e ordinato? Sì, sì, rispetto agli altri anni sì. A Torre è molto sentito il culto per i morti? Molto, molto. Penso che adesso sono venuta ad essere noi giorno dei morti, perché dovrò partire e stare fuori. Non avere il coraggio di andare fuori senza venire dai miei morti. È un appuntamento immancabile? Sì, sì, è vero. È così, è la tradizione, giorni di morte, commemorarli, i cari. Come ha trovato quest'anno il cimitero? Ordinato, pulito? Come sono le condizioni? Bastanza ordinato, sì, devo dire la verità. Meglio degli altri anni? Sì, sì. Una cosa che non mi piace per niente è che proprio in queste occasioni, in questi giorni, puliscono, tolgono le foglie secche dai vasi, quelle che stanno sulle scalinate un po' ovunque. Poi purtroppo, purtroppo, in molte zone, non da per tutto, ma in molte zone, negli altri giorni c'è molta trascuratezza. Ho notato proprio questo, ho notato proprio questo e me ne dispiace assai. Secondo lei perché? Il personale è poco? Beh, questo non lo saprei dire, sinceramente. Se il personale è poco, se sono un po' distratti, non ho idea, non lo so. Di sicuro questa pulizia dovrebbe essere costante? Un po' più costante, un po' di più, senza altro dovrebbe essere, dai. Almeno una volta al mese, una volta ogni tre mesi, insomma fate qualcosa, no una volta all'anno, una volta all'anno mi sembra troppo poco. Lei viene sempre al cimitero per il ponte del primo novembre? Sì, diciamo che ho un po' diradato negli ultimi due anni per via del covid ovviamente e adesso ci sarò senz'altro. Quest'anno come l'ha trovato il cimitero? Pulito, ordinato? No, se devo dire pulito no. Sinceramente non c'è cura. Cioè dovrebbero essere, è tutto lasciato alla benevolenza, alla buona volontà delle persone. Guardi, se solo lei vede come sono organizzata, con paletta, scopa, quindi questo la dice lunga. Come l'ha trovato quest'anno il cimitero? No, sta bene, sta a posto, non c'è niente di tutto in ordine. C'è più ordine, più pulizia? Sì, 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 sì. In questo momento sì, poi bisogna vedere dopo i morti. Speriamo che il periodo dei morti, almeno le fontane funzionano. Sì, pulito, solo che hanno chiuso le fontane e quindi è un po' difficile a prendere un po' d'acqua. Bisogna allontanarsi di molto. Vabbè, ci dobbiamo accontentare a Torre del Greco. Purtroppo è una situazione che ci vogliono anni, anni.